Mancano pochi giorni, poi la parlamentare sannita Nunzia De Girolamo è pronta a tornare nell'alveo di Forza Italia, forse già entro la fine del mese di settembre. Un passaggio scontato il suo per il quale manca praticamente solo l'ufficialità. Ma i passaggi si stanno facendo tutti. L'ex capogruppo alla Camera ha infatti chiamato a raccolta amministratori e dirigenti sul territorio che, come lei, ritengono esaurita l'esperienza politica con Alfano e Company. Presenti, fra gli altri, i sindaci di San Nicola Manfredi, nonché candidato alle ultime elezioni regionali, Fernando Enrico, quello di Paolisi, Carmine Montella e di Forchia, Margherita Giordano. Sul fatto che NCD non sia più un partito accogliente per riportare le loro istanze, hanno convenuto un po' tutti. Ora però si tratta di capire attraverso quali forme e modalità si realizzerà il trasbordo in Forza Italia. Gli interlocutori privilegiati sono due. A livello regionale il coordinatore desiano, mentre la partita nazionale, la De Girolamo, la sta trattando direttamente con il leader del partito, Silvio Berlusconi. E' anche da questa ripresa del dialogo con l'ex premier che la parlamentare sannita ha avuto la spinta decisiva per riprendere in mano i fili del discorso nel campo del centrodestra. Soprattutto ora che a Benevento, ma non solo, NCD sta ragionando sull'opportunità di un dialogo strutturale con il Partito Democratico non solo a Roma, ma anche a livello locale.